Sarà il DJ Gigi D'Agostino l'ospite di punta della quinta edizione dell'Azzurro Food, la cucina al centro del Mediterraneo, la manifestazione che si svolgerà a Sciacca dal 2 al 5 agosto. La comunicazione ufficiale non è ancora stata diramata dallo staff dell'Azzurro Food, ma la foto indizio che è stata postata nella pagina Facebook ufficiale lascia poco all'immaginazione. Sabato 4 agosto la piazza Scandaliato si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con il noto DAG, disc jockey di fama internazionale che ha raggiunto la notorietà tra gli anni 90 e i 2000, con i brani come L'amour toujours, bla 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 e Silence. Ed è oggi tra i DJ più conosciuti in Italia e non solo. Oltre ad aver collaborato con grandi nomi nostrani della tecno, come i DJ Prezioso, Albertino e tanti altri, Gigi D'Agostino ha mixato successi anche di Shakira, Daido ed altri artisti internazionali. Quello di sabato 4 agosto sarà un tuffo nel passato, ma sono anche tanti i singoli lanciati proprio quest'anno e che il DJ non mancherà di far conoscere al pubblico saccense, un nome che verosimilmente attirerà un vasto numero di fan. Ma ad aprire l'edizione 2018 dell'Azzurro Food, giovedì 2 agosto in piazza Scandaliato, sarà un gruppo tutto saccense, Sharabah, che proporrà un repertorio dalle sonorità mediterranee. La formazione è composta da Ezio Bongiovia alla chitarra, al mandolino e al buzuchi, Michele Bruno alla fisarmonica, Valerio Liveri al contrabbasso, Alessandro Pusateri alla batteria, Salvatore Catanzaro alla voce al carinetto e allo zufolo e infine a Curso Cortese al piano. Ricercati i brani eseguiti dagli Sharabah, nome che vuol dire ciò che di buono si coglie dal mare, vocabolo estrapolato da Oenico, un antico canto saccense relativo alla raccolta del corallo. Il Mediterraneo sarà il filo conduttore dei pezzi proposti dai sei musicisti che inaugureranno la serie di iniziative musicali e culinarie previste nel programma dell'Azzurro Food.